Dopo il grande evento dell'inizio lavori e seguente demolizione delle tre palazzine Atera a rischio crollo ai civici 14, 18 e 22 in via Lago di Borgiano, era il 29 giugno 2022, il nulla, o meglio, l'assenza dei protagonisti di quella passerella. Un silenzio ed assenza che il consigliere regionale PD Blasioli e quelli di minoranza di centro-sinistra in comune di Pescara hanno cercato di rompere questa mattina richiamando sul posto l'attenzione dei media. Qui ci sono due soggetti che dovevano operare, l'Ater e la regione Abruzzo e il comune di Pescara. Per quanto riguarda l'Ater e la regione Abruzzo dobbiamo ringraziarli per la sperimentazione di questa nuova architettura, forati a faccia vista a quanto pare, perché i palazzi sorgevano proprio qui, i palazzi sono venuti giù con i lavori cominciati il 29 di giugno, c'erano tutti, c'era Sospiri, Masci, c'erano tutti quanti qui in questa zona, e però a 400 giorni di distanza, l'appalto doveva durare 180 giorni, guardate come sono ridotti questi palazzi. Lei c'è entrato in questo appartamento? Sono entrato dentro, loro vedono la luce esterna perché ormai non c'è più il cappotto, non c'è più niente, ma soprattutto soffrono il freddo d'inverno e il caldo d'estate. L'hanno già fatto per un anno, chiedono naturalmente all'Ater di intervenire con grande forza e velocità. La piazza, la ricalificazione, che fine hanno fatto? Anche questo, di quei 12 milioni arrivati grazie al centro-sinistra, una parte erano per realizzare la piazza, noi non siamo stati naturalmente d'accordo in Consiglio Comunale su questo perché volevamo servizi in questa zona e non una piazza, ma guardate la situazione, c'è un degrado immenso, una variante per la realizzazione della piazza che risale ad aprile, ma da allora neanche un atto che fa nascere la nuova garra per la realizzazione di questa piazza. Per il momento degrado rifiuti? Degrado dovunque, ci sono affacciate prima delle persone chiedendoci naturalmente, implorandoci di intervenire, chiedendoci se eravamo del Comune per fare degli interventi. Guardate, calcinacci, alberi abbattuti, fogni a cielo aperto. Questa è la situazione di Via Lago di Borgiano, questa è la situazione di Pescara, mentre Corso Vittorio Emanuela viene dipinta di rosso. Grazie a tutti.